Stamattina ti è venuto a uscire una paura Si, Antonio, buongiorno, Fannarella E' successo un wirewash, un sassai proprio Leonardo... Staccio alla cacca Staccio alla cacca No, ma non è morto ancora Soltanto che... Mentre stiamo facendo, che noi per esempio stiamo facendo due servizi all'altro Diciamo, direi Leonardo ci spiega tutto fatto oppure vado direttamente... Vabbò, comunque... Mentre stiamo facendo i servizi stamattina No, donna Ernesto, non ti è una riga di scarrafone che si stava nella coppa Andò, non te ne dico E' venuto Leonardo, non ci vuole fare una mano Mentre si stava in un giacone che stava bussando in coppa all'uomo morto L'uomo morto, andò L'uomo morto per il salone partita Cinta che erano cinquanta scarrafone, trenta... E' chiamata... No, si è abboccata E' così è rimasto E' rimasto in una posizione equivoca Quale posizione equivoca? A non... Cocco della strega Chi stai rimasto a novanta gradi? A non te la fai tutta la strega Posizione pubatella Posizione pubatella Che si fa in questi cazzi? Che si fa? Su posto e posto Eh... Su posto, su posto Ah? No, detto... Non parlate complicate perché non vi capisco Aspettate... Ma vi passano? Forse capisce meglio Ma... No, detto... Qua nessuno voleva fare il medico Si sta incazzando questo Fai... Facci un po' con le lente Sì, tanto... Io faccio... Ci sono le preparazioni anche Però la verità proprio Non so... Non è stato il terreno per me Non è cosa... Poi... Tenimmo un po' che... Eh... Eh... C'è... E calmatelo poco Calmati Ehi... 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 C'è un po' che rilatenne scaduto E' buono Horri... Horri... Scade oggi? Eh... Sì, sì... Che succauto nì... Eh... Eh... Scusa... Ma che dà già dici? Scusami... Eh... Va buono... Ma cosa è qui la ragione? Ma ha fatto una parte che voi non avete idea Che noi la dobbiamo smettere sulle medicina a capocchio Ha detto che le medicinali vanno presi secondo le prescrizioni mediche Perché ci stanno gli effetti collaterali E ha ragione... Ha ragione... Quella è un'abitudine che abbiamo parlato di tutto quanto Io questa roba... Come stai a dire tutto quanto Questa è un'abitudine che ci siamo a lavorare Con le femmierici e tutto quanto Io una volta per stare a sentire un amico E' stato a prendere l'ospitale con un'allergia di quelle medicinali Che io non potevo prendere Ma ha fatto una parte Ma ha detto che ci serve un medicinale che io l'ha già vista pure Bisogna consultare i medici Comunque che l'amma fa questo? Aspettate un momento... E' l'annaccio... E' l'annaccio... E' l'annaccio... E' l'annaccio... E' l'annaccio... E' l'annaccio... Aspettate... Uffa... Ma che ti ha detto? Ha detto che non posso fare sforzi? Ha detto niente? Siente... No, no... Ha detto che non può fare sforzi Non mi devo muovere Eh... Non si deve muovere niente... Hai tenuto tanta roba inutile cadendo... E' che sto... E' che spucca? E' che spucca? E' E' una fiala? Una sola se ne sta... E' che l'esca? E' va bene... E' una vaga preparata un momento... Ti ha fatto una seranghella? No... Si... Io te la faccio io... Ma te ne ha fatto una manna... Ma te ne ha fatto una manna... Uff... Quella ha fatto più seranghella... E' che la faceva sforzare... E' mi fa una manna purissima... Ma non è... Scusate... Un coppà... La prescrizione... No... Sta scritta... Ma ti ha una prostata tu? No... Una prostata... Sta scritta così... Quella sa come si vede la prostata? Come si vede la prostata? Si mette una... Murita? Non lo so... Annarella... Un momento... Ma già presi... Si tene la prostata... Si si... Si tene la prostata... No... Si mette una... Ti voglio preoccuparmi lei... Siamo Leonardo... Forza... Scusate... Ma io coli... Scusate... Ma questa ambrezza... La faccia... Parigi... No... Non ti accorgi mai... Ma è doloroso... Eh... Entra muscolo... Non lo so... Ma che stai facendo? Quadrante... Superiore... Esterno... Voi sapete... Mi faccio l'esperimento... Quella... Questa è la pacca... La pacca... Vivi in quattro parti... Si... Quadrante... Superiore... Esterno... Si... Ma che stai facendo? No... 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 Non... Non mi posso girare... Non... Non mi posso girare... Non ci mettiamo niente... Non mi posso girare... Capito... Passi... Facciamo un'automulata... E... Passa... No... No... Ma che stai andando meglio... Ma s'andando meglio... Aspetta... Mi riferisco a capire... No Mi sento la ridica... Mi chiamo... C'è il suo voto qua, vengono? Vengono? Uè? Qu'è dice un'ora frisca a cadere?